Grazie a tutti i partecipanti del My Guardian Group Walk & Run di 7 edizioni del 2024 qui è un abbonato, siamo molto felici per tutte le persone di partecipare ma con 450 persone, quindi abbiamo in diverse categorie, ma con 60 categorie di molti persone grandi, di 60 plus, che stanno raggiando un premio di lavoro e un premio grande per due top female e top male runner che ricevono il nostro viaggio per il My Guardian Group Walk & Run di Corso il 26 ottobre, qui è venuto qui. Ci sono molto felici, grazie a tutti i nostri sponsori e a tutti i nostri volontari che aiutano, e anche a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici per la nostra opportunità e questo è un uguale evento agli ottengo alla nostra proporzione eAssad per la nostra comunità raggiungere qualcosa per il nostro corso e Safa bene avere una cosa buona che si stiamo collection接to ad avere un altro evento ed è ancora più grande, quindi non è ancora cresciuto con questo evento e ho spero che ci stanno guardando l'anno prossimo anno. Parti di nostra Corporate Social Responsibility con la nostra comunità di Stur e i progetti che ci stanno facendo l'evento anche in diverse parti. Ci sono anche 3 parti che sono ricevuti, parte del Martial Arts e la community di Dianna e la community di Bonnare. Ci sono anche una grande donazione per il nostro gruppo di Dianna e la community di Dianna e il Gm Music Center, Dance and More Bonnare e anche Wolfpack Self-Defense. Ci sono anche una notizia per il futuro di nostra comunità in Bonnare e qui si stanno facendo l'agga di crescere su attività e su hobby. Ci sono anche per l'evento per creare di nostra comunità in Bonnare. Ci sono anche un po' più grandi mesi, ci sono due ganadoni di Caminata qui, 8 km, top female e top male. Ci sono un'immagine di Bergen, un'immagine di top, con un'immagine di 8 km di 33 minuutti e 45 secondi. Ci sono un'immagine di Aruba, che abbiamo specialmente un'immagine di Beyond Sport Limit, che è di una persona con disabilità e un'opportunità per tutti gli avviene di Beyond les Limits, e si stia facendo qualcosa di qui, a la loro cibo, che è di unste pierno di permettere di ottenere il comune di 8 km per divinità! Ci sono i suoi problemi superiore per camminare con unmeno di 3 minuutti e 48 secondi. Non ci sono molto bene, non ci sono tutti i nostri gruppi qui qui sono in corso il 28 ottobre e qui. La esperanza è stata super bravo, abbiamo con una grande gruppa e tutti i nostri tempi, alcuni i nostri tempi, alcuni i nostri tempi, sono stati molto azzurro, e ho fatto un po' di water, un po' di chilometri, è stato anche top regolato, e qui un po' di frutti, quindi ho avuto molto bene. Sì, è stata una buona gara, è stato molto organizzato e interessante perché è stato 8 chilometri, un po' meno di 5 mili. Abbiamo fatto una storia di oggi, la prima gara di chip in la storia di bonaire. La gente era già un chilometro per noi, perché avevano molti stessi, quindi dovevano molto spazio. Ma è stato molto divertente.